Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code sul ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da Roma in direzione Pisa. Code che interessano quindi anche la 11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa appunto e tra Sesto Fiorentino e Firenze e Pretola verso Firenze. A causa della viabilità esterna che non riceve, code anche in Fipilì in uscita alla Strassigne e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Si ricorda inoltre che per l'intera giornata di oggi è in corso uno sciopero generale del trasporto pubblico locale che coinvolge il servizio bus, autolinea e toscane, il servizio gest della tramvia di Firenze, non coinvolte quindi regolare il servizio ferroviario. Città di Firenze fino al 10 novembre a causa di lavori via Guelpa di Marracchiusa tra via Sangallo e via Cavour. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!